La Bulgaria non sia indifferente a chi bussa ai suoi confini, prosegue il viaggio apostolico del Papa, stamani ha dato la prima comunione a 245 bimbi e ha visitato il centro profughi di Sofia. Temperature sotto la media, pioggia e neve a quote basse, è l'eredità lasciata dalla perturbazione che ha interessato la Liguria nel fine settimana, risveglio indiancato in Val Daveto. Il CDA della Fondazione Torriglia si prepara ad approvare il bilancio 2018 che registra un avanzo piccolo ma significativo. La casa di riposo chiaverese aprirà le sue porte alla città al prossimo fine settimana. Entra nel vivo a Rapallo la campagna elettorale, Telepaccio ospiterà questa sera in direttamente sui 5 candidati a sindaco, Sansò, De Benedetti, Bagnasco, Mele e Carannante, inizio alle 21.10. Piazza Mazzini a Chiavari si è tinta di bianco celeste, tifosi in festa per la promozione della Virtus Entella in Serie B, lo slogan Così è stato ancora più bello. Domani lo speciale su Telepace 1. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. In apertura parliamo del viaggio apostolico del pontefice in Bulgaria. Questa mattina Francesco ha celebrato la Santa Messa a Rokovski e ha dato la prima comunione a 245 bambini di tutto il paese. È la prima volta che accade durante un suo viaggio apostolico. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Chiesa e famiglia e tutti siamo amici e fratelli. A Rokovski nella chiesa del Sacro Cuore il Papa parla così ai 245 bambini che hanno ricevuto la prima comunione. È la nostra carta d'identità, spiega, prima di intavolare un simpatico dialogo con i piccoli. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi, dice Francesco, come possiamo incontrare Gesù che è vissuto tanti anni fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba. E così risponde, noi sappiamo che è resuscitato, è vivo ed è qui con noi e oggi lo possiamo incontrare nell'Eucaristia. Di qui l'invito di Francesco a pregare sempre con l'entusiasmo di oggi perché è il sacramento della prima comunione, non dell'ultima comunione. Gesù vi aspetta sempre. Infine, il Papa ricorda che il miracolo della moltiplicazione dei panni dei pesci è iniziato dalle mani di un bambino, un miracolo che oggi torna a compiersi. Di far ricordare tutti noi grandi qui presenti il primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell'Eucaristia e poter ringraziare per quel giorno. Oggi ci permettete di essere nuovamente in festa e celebrare Gesù che è presente nel pane della vita. Perché ci sono miracoli che possono accadere solo se abbiamo un cuore come il vostro, capace di condividere, di sognare, di ringraziare, di avere fiducia e di onorare gli altri. Fare la prima comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere nell'amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare. Ciascuno di noi sulle orme di San Francesco è chiamato a diventare un costruttore, un artigiano di pace, pace che dobbiamo implorare e per la quale dobbiamo lavorare dono e compito, regalo e sforzo costante e quotidiano per costruire una cultura in cui anche la pace sia un diritto fondamentale. L'ha detto il Pontefice nell'incontro per la pace che si è svolto questo pomeriggio a Sofia alla presenza degli esponenti delle varie confessioni religiose. Col fuoco dell'amore noi vogliamo sciogliere il gelo delle guerre. Stiamo vivendo questo evento per la pace sulle rovine dell'antica serdica Sofia, cuore della Bulgaria, ha ribadito ancora Francesco, possa questo luogo simbolico rappresentare una testimonianza di pace. In questo momento le nostre voci si fondono e all'unisono esprimono l'ardente desiderio della pace. La pace si diffonda in tutta la terra, nelle nostre famiglie, in ognuno di noi, specialmente in quei luoghi dove tante voci sono state fatte tacere dalla guerra, soffocate dall'indifferenza, ignorate per la complicità schiacciante di gruppi di interesse. Queste le parole del Pontefice. E prima della Santa Messa di Rakowski il Papa ha fatto visita al centro profughi di Sofia. Il mondo dei migranti e dei rifugiati, ha detto, è una croce dell'umanità. Ora diamo uno sguardo alla giornata di ieri, iniziato con il discorso alle autorità, si è conclusa con la Santa Messa in piazza Sofia alla quale hanno preso parte 12 mila fedeli. La sintesi nel servizio che abbiamo preparato, lo vediamo insieme. La Bulgaria è un paese ponte tra est e ovest, capace di favorire l'incontro tra culture, etnie, civiltà e religioni differenti. È sulla convivenza pacifica che ruota il primo discorso di Francesco in terra bulgara. In piazza Burov, davanti al presidente Radev, il Papa ricorda che il paese conosce il dramma dell'immigrazione e dell'inverno demografico e invita a sostenere i giovani. Mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, di non chiudere il cuore e non chiudere la mano, come è nella vostra tradizione, a chi bussa alle vostre porte. Il pontefice saluta poi i leader religiosi e ribadisce che ogni religione è chiamata a promuovere armonia e concordia, deve aiutare la crescita di una cultura con rispetto per la persona umana e la sua dignità e rifiutare violenza e coercizione. In questo modo, dice il Papa, si sconfiggeranno coloro che cercano con ogni mezzo di manipolarla e strumentalizzarla. Così, incontrando la chiesa ortodossa bulgara, Francesco esprime il desiderio che un giorno si possa raggiungere la piena comunione tra le due chiese, anche perché su alcuni temi, come la difesa delle radici cristiane, spiega, le opinioni coincidono pienamente. La domenica si conclude con la messa in piazza Sofia. Il Papa sottolinea che Dio non si stanca di chiamare gli uomini e di amarli. Questa è la nostra forza, che ogni giorno siamo invitati a rinnovare. Il Signore ci ama. Essere cristiano è una chiamata ad avere fiducia che l'amore di Dio è il più grande di ogni limite o peccato. E domani il Pontefice lascerà la Bulgaria per raggiungere la Macedonia del Nord, seconda tappa del suo viaggio apostolico. Il Pontefice, dopo la cerimonia di congede all'aeroporto di Sofia, alle 7 del mattino, atterrerà a Scopie alle 8 e un quarto, dove verrà accolto dalle autorità della Repubblica. Alle 9 ci sarà la visita al Palazzo Presidenziale a seguire quella al memoriale di Madre Teresa con l'incontro con i poveri. Alle 11 in piazza Macedonia, Papa Francesco presiderà la Santa Messa. Appuntamenti questi che Telepace seguirà in diretta sul canale 15 del vostro telecomando. Cambiamo l'argomento, sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il ponte Morandi, la cosiddetta zona nera, e che oggi per l'ultima volta avranno accesso alle proprie case che verranno poi successivamente abbattute. Le operazioni sono iniziate poco dopo le 8 del mattino, dopo che la protezione civile ha attivato tutta una serie di procedure di sicurezza. Viviamo un doppio sentimento, ha detto Franco Ravera, portavoce del Comitato degli Sfollati. Da una parte l'emozione di poter rientrare, dall'altra lo strazio e la consapevolezza che sarà purtroppo per l'ultima volta. Non le vedremo più. Le operazioni di rientro per gli sfollati della zona nera terminano martedì, mentre per quelli che vivevano nel quadrato più esterno arriveranno sino a sabato e domenica, condizioni meteo permettendo. Una volta terminate queste operazioni, le case verranno abbattute. Si svolge domani a Genova la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo della Torre Piloti di Mologiano, avvenuta il 7 maggio del 2013. Il programma prevede alle 19.30 la Santa Messa nella chiesa di San Marco al Molo, ufficiata dal Cardinale Alcivescovo Monsignor Angelo Bagnasco. Alle 20.45 la scopertura, la benedizione delle stele a ricordo delle vittime in piazzale Porta del Molo. Seguirà alle ore 22 la partenza del corteo verso il Mologiano, dove alle 22.59, l'ora della tragedia, ci sarà la deposizione della corona e un momento di raccoglimento. Parteciperanno il sindaco di Genova, il comandante della Guardia Costiera, i familiari delle vittime, nove le persone che persono la vita nel crollo della torre abbattuta dalla motonave, jolly nero. Scenari invernali in Val d'Aveto e sulle vette dell'Apenino Ligure, la perturbazione che ha interessato la regione nelle ultime 24 ore, ha lasciato in eredità un drastico abbassamento delle temperature. Pioggia e neve anche a quote relativamente basse per quanto riguarda la stagione. Bisogna andare indietro nel tempo per ricordare uno scenario simile. Oggi sprende il sole, anche se per mercoledì atteso il ritorno della pioggia e i panorami che si possono ammirare in alta quota sono davvero suggestivi. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. La Val d'Aveto si è svegliata questa mattina sotto un cielo azzurro e 40 centimetri di neve in quota. Bisogna risalire al 2013 per ritrovare il prato della cipolla coperto di neve, in quel caso era addirittura il 25 maggio. Ma a parte i ricorsi storici e un panorama da favola è decisamente insolito quello che in questa stagione si può ammirare oggi dalla vetta del Monte Bue. Il giorno dopo la nevicata che ha imbiancato praticamente tutto l'arco appenninico Ligure e le valli dell'entroterra, il sereno si è esteso da ponente verso le zone di Levante. Segnale questo dell'allontanamento della depressione che si è originata dalla discesa di aria fredda di matrice artica nel Mar Ligure e che ha portato l'inverno a maggio come non si vedeva da parecchi anni. Venti di tempesta, crollo termico fino a 12 gradi in 24 ore, abbondanti nevicati in appennino di Levante e al confine con l'Emilia, sopra i 1200 metri e fino a quote basse nell'interno tra il Savonese e il Genovese. Questo lo scenario nelle ultime 24 ore. In Val d'Aveto la neve si è fermata anche a Rocca d'Aveto, regalando scenari tipicamente invernali. Il passaggio perturbato del fine settimana ha lasciato in realità poi temperature che di primaverile hanno decisamente poco. Il profilo termico durante la notte ha visto le temperature minime lungo le coste e a testarsi tra i 7 e i 12 gradi, valori ancora sotto la media. Valori minimi decisamente invernali anche nelle zone interne del versante marittimo, con valori compresi tra i 3 e i 6 gradi. Sotto zero il fondo valle del versante padano, meno 5 i gradi registrati sulla vetta del Monte Bue. Qui, nel tentativo di mantenere il manto nevoso almeno fino al prossimo weekend, si sono battute le piste. Mercoledì è atteso infatti un nuovo passaggio perturbato di origine atlantica e non è escluso che se le temperature non subiranno un drastico rialzo, la neve possa restare e permettere una discesa con gli sci, quella sì decisamente fuori stagione per tutto il Tiguglio. E considerate le temperature inferiori alle medie stagionali e le previsioni in meteo per i prossimi giorni, gli impianti di riscaldamento a Cogorno potranno rimanere accesi per un massimo di 6 ore giornaliere. L'ordinanza che è stata firmata dal sindaco resta in vigore sino a domenica 12 maggio. A Chiavari invece il primo cittadino ha autorizzato l'accensione del riscaldamento per un massimo di 8 ore giornaliere fino al 15 maggio prossimo. Scontro tra due auto questa mattina intorno alle 11.30 a Chiavari all'incrocio tra Corso Montevideo e Viale Tappani. Il mancato rispetto dello stop sembrerebbe all'origine del sinistro sulla cui dinamica sta indagando comunque la polizia municipale chiaverese che ha effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Una delle due auto ha sfondato i paletti di protezione del marciapiede finendo su una iuola ma al momento non c'era nessuno nelle vicinanze. Sul posto comunque sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Chiavari. Due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Lavagna a Chiavari per spaccio di stupefacenti. I due avevano scelto come base di appoggio per la vendita di eroino la copertura del fiume Fravega. Nel corso di alcuni servizi di controllo al territorio predisposto nel corso dei punti festivi gli investigatori hanno notato un via vai di tossicodipendenti che andavano ad acquistare la dosa giornaliera sotto la copertura del fiume. Dopo aver fermato alcuni acquirenti hanno effettuato un'irruzione sul posto e hanno arrestato i due spacciatori colti in flagranza sequestrando quindi l'eroina, un bilancino elettronico di precisione e anche denaro che è il provento dello spaccio. Ancora cronaca, nel tardo pomeriggio di ieri a Portofino uno sconosciuto si è mescolato tra i clienti in una notte a boutique approfittando della confusione è riuscito a impossessarsi di una borsa da donna del valore commerciale di 1550 euro dileguandosi poi in fretta. Non contento poco dopo è entrato in un secondo esercizio commerciale anche qui ha tentato di approfittare della calca per rubare una borsa dal valore di 2350 euro. In questo caso però è stato individuato dalla commessa che ha tentato di fermarlo. L'uomo tuttavia è riuscito a scappare salendo a bordo di un pullman. I carabinieri sono riusciti a fermarlo in località Paraggi. Si tratta di uno straniero 47enne con precedenti di polizia irregolare sul territorio nazionale. Tratti in arresto è stato processato per direttissima per furto aggravato e tentato furto aggravato continuato. La refurtiva è stata restituita ai negozi. Chiuderà con un avanzo di amministrazione di 2400 euro il bilancio consultivo 2018 della Fondazione Torriglia di Chiavari. Cifra sicuramente non elevata ma fortemente simbolica che segna il ritorno dal disavanzo che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Il documento contabile sarà approvato questa settimana dal Consiglio di amministrazione. La Casa di Riposo Chiavarese intanto si prepara ad aprire le sue porte alla città e lo farà nel corso del prossimo fine settimana. Noi facciamo il punto nel servizio che segue. Andremo ad approvare il bilancio proprio questa settimana e si chiuderà con un piccolo avancio. Questo è già un risultato molto importante tenuto conto degli impegni finanziari che abbiamo assunto però insomma siamo riusciti tutti insieme a disciplinare meglio quelli che erano i costi di gestione. Era stato annunciato a gennaio e i numeri di fine aprile lo confermano. Il bilancio 2018 dell'Istituto Torriglia di Chiavari chiude con un avanzo di amministrazione che segna il rientro dal disavanzo per la spesa ordinaria. Nel contempo per la Casa di Riposo Chiavarese sono proseguiti gli interventi di ammodernamento sia delle strutture che del servizio di assistenza per i propri ospiti. Ad esempio l'impianto di videosorveglianza che verrà installato a breve, l'impianto nuovo di allarme e di campanelle nelle stanze, poi altri interventi in cucina eccetera ma soprattutto se è lavorato per quanto riguarda la qualità dei servizi cercando di puntare sull'invecchiamento cosiddetto attivo cioè coinvolgendo gli anziani in attività di animazione che consentono quindi all'anziano di come abbiamo fatto di andare a fare passeggiate oppure avere laboratori musicali oppure la novità che secondo me è molto interessante è quella di aver istituito la radio Torriglia che consente agli anziani di avere un'attività legata all'ascolto della propria voce quindi alla facilitazione della propria memoria. E per vedere da vicino queste novità e conoscere la storia della fondazione sono in programma due giornate di Open Day sabato 11 e domenica 12 maggio. Nella giornata di sabato inoltre sarà possibile visitare una mostra con l'esposizione di documenti risalenti al 1700 e 1800 ritrovati recentemente. Se ne parlerà anche nel corso di una conferenza, un secolo di solidarietà a Chiavari tenuta alle 16 dalla storica Barbara Bernabò. Abbiamo avviato questa iniziativa per aprirci alla città in modo che i cittadini chiavaresi prendano cognizione di quello che sta facendo la casa di riposo Torriglia per i loro anziani. Teniamo presente che appunto questa fondazione è stata costituita proprio con lo scopo di assistere gli anziani chiavaresi in maniera prioritaria. È un patrimonio della comunità chiavarese. Entra nel vivo a Rapallo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative del 26 maggio prossimo. Questa sera Telepace ospiterà i cinque candidati a sindaco che in ordine di estrazione sono Sandro Sansò, Isabella De Benedetti, Carlo Bagnasco, Mauro Meli e Andrea Carrannante. Ciascun candidato avrà a disposizione un tempo per rispondere a cinque domande relative a famiglia, turismo, infrastrutture, traffico e sanità. La puntata registrata negli studi di Chiavari e nel rispetto della Parcondicio andrà in onda questa sera alle 21.10 sul canale 15 di Telepace nello spazio dedicato alla trasmissione direttamente su. Da domani la potrete anche trovare sul nostro sito e anche su Youtube. Una conseguenza indiretta della mareggiata dello scorso anno è stato il ritrovamento di alcune anfore di epoca gallica nell'area marina protetta di Portofino. Questo assieme ad altri ritrovamenti analoghi è un motivo di grande interesse per gli appassionati del settore e per gli studiosi. Occorre prestare grande attenzione perché è praticamente certo che episodi simili siano destinati a ripetersi in futuro. Sentiamo Alessandra Cabella della Sovrintendenza. La mareggiata ci ha fatto capire che il mare non è solo lo sfondo per un selfie. Il mare è vivo e può essere un'occasione di turismo e di sviluppo per il territorio. Come? Anche dal punto di vista culturale. Il mare è il più grande custode di tesori. La terra è composta quasi tutta da acqua. Il nostro mare qui, in questo comprensorio, è di una preziosità acclarata, smisurata. Non ci sono altri punti di immersione che possono eguagliare nel Mediterraneo. Quello che noi abbiamo e che possiamo fare qui, nell'area marina protetta e zone limitrofe. Continuamente possiamo sperare e immaginare che possano mano a mano emergere nuovi tesori. Così come è successo in dicembre dell'anno scorso con questo ultimo relitto che ha portato alla conoscenza, alla scoperta di anfore galliche. E poi tutti gli altri relitti, citiamo anche Paccaniella, l'anno scorso, quindi un pescatore di Santa Margherita, dedito alla pesca di alto fondo, che quindi oltre 700 metri lui salpò delle anfore nella sua rete. Quindi aspettiamoci davvero che vengano fuori nuovi tesori. Far la tutela di questi tesori è tutt'altro che semplice perché costa moltissimo. Costa moltissimo impiantare un cantiere per scavi di archeologia subacquea, costa moltissimo poi tutelare questi manufatti nel caso vengano tirati fuori dall'acqua e li si vogliono conservare in un ambiente che non è quello marino. Quindi il ferro si disgrega fuori dai materiali metallici, si ossidano nel caso del bronzo o si disgregano come il ferro fuori dall'acqua. Il legno poi non parliamo, ne si perde completamente. Quello che possiamo fare appunto è dire ai subacquei di segnalare sempre, perché è un obbligo di legge senza altro. Ma il mare è un custode veramente della nostra memoria collettiva, di tutti. Andare con consapevolezza, sapendo quello che si va a fare, non toccando niente, ma segnalando con immediatezza queste cose. Il mare non è, come qualcuno diceva, un supermercato da cui servirsi. Il mare è di tutti, siamo noi tutti e possiamo fare tutela davvero anche dei tesori artistici che così tanto ci parlano attraverso ogni secolo, anche nel mare. A Bruxelles, nel castello di Baden-Bork, è stata inaugurata nei giorni scorsi l'opera d'arte Europe in Change. La sede per l'installazione permanente è stata individuata dal Parlamento Europeo, a cui è stata donata. L'iniziativa è risultato dalla collaborazione delle sei scuole di nazionalità diversa, Belgio, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Svezia, aderenti al progetto Erasmus Plus Europe in Change, che in tre anni ha permesso il lavoro e la mobilità di 180 studenti e 50 docenti. Alla realizzazione dell'opera, costruita dall'istituto VTI Verne e progettata dall'architetto belga Frans-Marie Schilbert de Metz, hanno preso parte anche gli studenti italiani dell'istituto Natta d'Ambrosis di Sestilevante in collaborazione con l'artista Monica Marcenaro e hanno realizzato 28 maschere collocate attorno alla base della struttura di metallo. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita questo pomeriggio in un bosco a Tribogna. Ancora non si conoscono le cause della morte per accertare le quali saranno effettuate dai sanitari alcuni esami nelle prossime ore, ma l'ipotesi più probabile resta quella di un valore. L'allarme è scattata intorno alle 14 quando i familiari si sono allertati non vedendolo tornare a casa. Sul posto sono giunti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco di Chiaveri hanno poi proceduto al trasporto del corpo dell'uomo con la barella Toboga al più vicino punto di accesso carrapile. Sestilevante piange alla scoparsa di uno degli ultimi maestri di Ascia. È infatti mancato Giobatta Garibotto, detto il Queen. Aveva 96 anni e apparteneva alla famiglia dei Bancarin. La sua figura è legata alla costruzione di imbarcazioni dei Calafati. Aveva lavorato alla Fincantieri in qualità di marinaio, partecipando ai vari delle imbarcazioni al cantiere Rivano. Sostenitore della locale Sezione, della Croce Rossa, dell'Avis e dei marinai d'Italia. I funerali saranno celebrati domani, martedì 7 maggio alle 15.30 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra. Il rosario è stato recitato questa sera alle ore 19 nelle camere ardenti dell'ospedale di Sestri Levante. Ai familiari le condoglianze da parte di Telepace. È purtroppo un altro evento luttuoso perché è mancato l'affetto dei suoi cari Emanuele Canepa, persona molto nota a lei via Chiaveri dove aveva svolto per lungo tempo l'attività di commerciante. Da qualche tempo era sofferente. Canepa si è spento all'età di 82 anni all'ospice di Chiaveri. Era discendente di una famiglia piuttosto numerosa di Leivi. Cinque fratelli e due sorelle. Emanuele si era dedicato al commercio gestendo per lungo tempo insieme alla moglie Marisa una macelleria in via Colonnello Franceschi a Chiaveri. Lascia oltre che alla moglie Marisa Sanguinetti i figli Michela col marito Marco Di Capua sindaco di Chiaveri e Davide con Silvana. I nipoti Giovanni, Aurora, Elise Edoardo, la sorella Angela, i fratelli Giulio, Giovanni e Luigi con le rispettive famiglie e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pier di Canne a Chiaveri. Ai familiari va la vicinanza e il ricordo nella preghiera anche da parte di tutto lo staff di Teleradiopace. Da domani all'ufficio ambiente del comune di Santa Margherita Ligure aperto martedì e venerdì dalle 9 e mezzogiorno e mercoledì dalle 15 alle 17 inizierà la distribuzione gratuita ai residenti di una bottiglietta per la pulizia delle deiezioni canine. Si tratta di una borraccetta pieghevole con il logo del progetto Amico Cane. Inoltre i proprietari di gatti residenti in città potranno ritirare gratuitamente un sacchetto di sabbietta compostabile, smaltibile nell'umido e quindi più eco sostenibile. E ora andiamo a vedere insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 7 maggio. Il museo scientifico Leonardini Sanguinetti è aperto alle visite dalle 9 alle 12 nei locali del seminario Vescoviglia di Chiaveri. Sono esposti più di 300 apparecchi risalenti ai primi anni dell'Ottocento. Debutta a Sestre Levante il mercatino agricolo nel quartiere di Pila, bancarelle allestite in via Salvi dalle 9 alle 13. Prende via a Sestre Levante il Riviera Film Festival alle 12.30 nella sala Riccio del palazzo comunale Vernissage della mostra Celi Climate Change promossa dalla sezione artistica del festival curata da Carola Cometto e Federico Nero. Nel pomeriggio alle 17 nella sala Oleandro dell'ex convento dell'Annunziata al laboratorio per bambini con la proiezione di Robin Hood. Alle 18 al Cinema Ariston cerimonia di inaugurazione del festival con il red carpet a cui seguirà la proiezione dei primi film in concorso. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Queirolo Chiara Rossi terrà un laboratorio di scrittura creativa. Prosegue il corso di cultura genovese alle 16.30 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari incontro con Mario Chiappe che terrà una conferenza sul tema il Tiguglio orientale e la Val di Vara in una visita pastorale del tardo 500. Open day all'istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari dalle 17 alle 18.30 nella sede di Viale Enrico Millo. Il dirigente, il personale docente sono a disposizione per illustrare i percorsi e per offrire informazioni più dettagliate su tutta l'offerta formativa compresi i nuovi corsi serali per ragionieri e geometri al prossimo anno scolastico. Followership, l'altra dimensione della leadership e prospettive a confronto. E il tema della conferenza in programma alle 18 nella sede di YLab a Chiavari interverranno Andrea Zorzi, ex campione di pallavolo, Jack Sintini, pallavolista e manager di Run Stand Sport e Roberto Boscaglia, allenatore della Virtus Entella. A proposito di Virtus Entella, passiamo al calcio. Piazza Mazzini a Chiavari si è tinta veramente di bianco celeste. Tifosi simpatizzanti dell'Entella si sono radunati ieri sera per festeggiare insieme ai protagonisti la vittoria nel campionato e la promozione quindi in Serie B. I giocatori si sono presentati con una maglietta bianca, con la scritta. Così è stato ancora più bello. Vediamo. Forza Entella è stata una stagione sofferta ma felicissimi che sia finita così. Bravissimi grandi tutti. Grandi tutti. Veramente adesso Chiavari, come l'anno scorso, una grande realtà nel calcio italiano. Era una partita, ho patito tutto il tempo però poi è stata veramente una cosa meravigliosa. Ma loro la promessa che vengono a vedere l'Entella in Serie Biva la devono fare stasera tutti. Piazza Mazzini è tradizionalmente la sede delle feste dell'Entella e io ancora una volta voglio ringraziare i tifosi perché sono stati straordinari ieri durante il campionato e anche stasera in questa magnifica piazza nonostante il freddo. Mister, grande festa. Sì, grandissima festa, bellissima. Tanta gente, tanta gente felice. E noi, il nostro lavoro è fatto di emozioni. Quello di ricevere e dare emozioni è la cosa più bella al mondo. Come andate in campo? Ti abbiamo visto insomma impegnato più del solito. Sì, no, ieri volevo proprio vincere perché poi arrivavano notizie da scena e era un peccato non concludere in bellezza. Mi veniva veramente da piangere che non riuscivamo a fare gol però alla fine ci ha passato Matteo e è stato bellissimo. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo e siamo contenti. Ci meritiamo questa festa e ora al prossimo anno poi speriamo di fare un bellissimo campionato. Grazie a tutti di aver partecipato. Grazie Chiavari. Il sabato prossimo alle 20.30 al comunale di Chiavari Bianco Celesti affronteranno il Pordenone, la formazione vincitrice del Girone B di Lega Pro. Sarà la prima partita della Supercoppa di Serie C. Intanto domani, Telepace 1 domani sera dal canale 15 con inizio alle 21.10, andrà in onda uno speciale interamente dedicato alla promozione in Serie B della Virtus Entella Chiavari con intervista a giocatori, dirigenti e tifosi. E lasciamo ora il calcio professionistico, passiamo ai dilettanti. La Serie D, il Sesti Levante, si ferma sul pareggio a Bra. Corsari in vantaggio al 35esimo del primo tempo con Croci. Sono stati raggiunti al quarto del secondo tempo dagli avversari con la rete di Rossi. Il Bra raddoppiato al decimo della ripresa con Giglio, ma al 38esimo del secondo tempo, Sancinito ha siglato il definitivo 2-2. Sesti Levante che chiude il campionato a quota 38 punti, dovrà quindi disputare il play-out salvezza con l'arco nattese a 36 punti in classifica. Retorcedono Prodro Nero, Stresa Sportiva e Borgaro Nobis. L'altra tigullina del girone lavagnese, già matematicamente salva, sconfitta dalla Prodro Nero per 2-0, finisce il campionato a centro classifica a quota 42 punti. Nel girone A, promosso l'eco calcio, disputeranno i play-off Sanremese, Savona, Ligorna e Inveruno. Parliamo di campionato di eccellenza Ligure, il Vado promosso in Serie D, disputerà i play-off con la Riva Rolese. Vanno i play-out a Lassio, San Margheritese, Albenga, 20 miglia calcio. E retrocesso il Val di Vara, 5 terri. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, ritorna domani alle ore 12.45 con Tiguglio Oggi. Io mi fermo qui, grazie per la vostra cortesa attenzione e una buona serata a tutti. Arrivederci. Sous-titrage Société Radio-Canada